ragazzi la facciamo più grande sì sì per favore tres 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 la piscina più grande diventerà lili perché non mi hai detto che la piscina aveva un buco perché pensavo che non sarebbe successo nulla perché era piccolo rendendo la piscina più grande anche il buco è diventato più grande e ora tutta l'acqua sparirà ora le mie zampe sono tutte bagnate andiamo a casa ad asciugarci no devo portare il mio animale dal veterinario Tocchi andiamo io sono tutto bagnato wow Tatti fa davvero molto molto caldo non ce la faccio più potresti cambiare il tempo e farlo più fresco no Misifu lo sai che è proibito guarda Tatti cos'è quello? beh non lo so andiamo a vedere anguri e meloni molto freschi per rinfrescarvi d'estate li volete ne volete uno? wow hanno un aspetto fantastico Tatti compriamo due cocomeri due? ok uno per me e uno per te evvivo! tieni il tuo cocomero cara Tatti e questo è per te caro Misifu grazie signor Tino ciao ragazzi ci vediamo molto presto la 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 sono davvero felice della mia anguria non vedo l'ora di mangiarla tutta la 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 oh no che caldo Tatti non ce la faccio più a camminare con questo caldo e l'anguria è diventata così pesante è vero Misifu li trasformeremo in cocomeri giganti e li porteremo a casa facendoli rotolare Tris 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 le anguria giganti saran Tatti così va molto meglio rotoliamo rotoliamo verso casa con i nostri bei cocomeri la 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 wow anche voi avete delle palle bravi ragazzi continuate così ci ha scambiato per degli scarabelle Tatti ciao signor Beetle ciao ragazzi ci vediamo presto ma Tatti cosa hai fatto è stata la bacchetta magica non sono stata io oh no i cocomeri se ne stanno andando corri corri ci sono ci sono quasi oh no i cocomeri corri 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 oh Tatti oh 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 Misifu vedo le stelle e io vedo tanti piccoli uccellini oh Tatti e adesso come facciamo non possiamo portarlo a casa così questo è un problema non so dove sia finita la mia bacchetta e se lo mangiassimo si è molto buono Tatti dove sei finita? sono qui devi continuare a mangiare oppure andranno a male si è vero si oh Tatti non ce la faccio più nemmeno io Tatti che ne facciamo adesso di tutta questa anguria io non riesco più a mangiarla ce n'è un sacco sento insolletico anch'io non riesco a muovermi formichine se ci portate a casa vi daremo tutta l'anguria ma certo portiamo a casa Tatti e Misifu grazie grazie piccole formichine ciao non credo che mangerò più l'anguria per molto tempo nemmeno io ragazzi guardate cosa vi ha portato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.